Il circuito a pelo d'acqua era dedicato da Pavia alla sua festa più fittoresca, il Palio, sagra dei dieci quartieri della vecchia città. Il ponte risuona ancora di accenti ormai remoti. Non fosse per i cavi del filobus ci crederemmo davvero in pieno medioevo. Ma pazienza, Hollywood nel rifare la storia ha fatto ben di peggio. Che poi anche le damigelle siano di 500 anni fa, questa non ce la danno da bere. Sono troppo fresche le belle di ogni rione, anche se la graffia femminina non ha cambiato molto dai tempi dei biscotti. Ma per riportarci più saldamente al 400, ecco ben poco mutato il famoso Palio dell'Oca. E sono ancora di scena le acque del Ticino, alla ribalta il ponte che è tanta parte di Pavia. I dieci campioni di ogni rione devono fluttuare a forza di braccia per 100 metri. Se il Palio di Siena è in gran parte affidato ai cavalli, in quello di Pavia è tutta questione di uomini. Prima il votatore e poi il vogatore. Altri 300 metri a tutta natura e infine siamo al dunque. Una sfilata di canni di occhi. Ed ora a bersaglio. A chi fa il tuffo a vuoto, gli amici diranno stasera che non è stato nemmeno all'altezza di un'Oca. Di un'Oca in pezza e gomma come quella di Pavia. Ai vincitori la soddisfazione di dare dell'Oca alla bella e sentirsi anche ringraziare con un sonante bacio. A chi fa il tuffo a vuoto, gli amici diranno stasera che non è stato nemmeno all'altezza di un'Ocazione 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 di un'Ocazione. Grazie. Grazie.